Salve ragazzi e sempre benvenuti su Opinione di Luzio che ospita sul canale grazie a voi e grazie soprattutto a Hag che è lo sponsor della puntata logicamente così vi proponiamo noi l'editomix non si faccia ingannare da questo logicamente che non sono io sono soltanto io logicamente che cos'è questa cosa? questa cosa è la nuova telerendita che viene fatta direttamente su Youtube per gli amanti degli oggetti rari e preziosi roba grossa cosa volete comprare oggi? e vabbè ve lo dico la domanda innanzitutto io che devo comprare oggi ci sono tre prodotti all'asta logicamente vedrete il numero sull'impressione telefonate logicamente, telefonate, affrettatevi non correte se avete una linea d'attesa con lo stemmi voi non avete formato che voi fermerete il prezzo d'asta noi cominceremo soprattutto con questa donna guardate il suo profilo questo diciamo è il fronte naturalmente questo è il lato e questo è il dietro molto interessante di cui la base è naturalmente molto robusta ottimo diciamo da porre sui vostri mobili antichi di legno dato che anch'essa è fatta di ebano 100% ebano certificato da opinioni di Luzio che naturalmente non vi inganna ma vi porta in risalto un ottimissimo prezzo tutto intagliato a mano con le manine africane logicamente e fatte con amore e con ardore c'è anche dell'artisticità nell'espressività del volto guardate che logicamente non si vede la lacrimuccia ma si nota soltanto con la postura delle palpebre che sta ricucciata su se stessa un attimino anche con il suo naso che notate che logicamente è molto molto verso l'insuola francese una denotazione della loro colonizzazione del paese Senegal che logicamente richiamava quello che erano stati loro i primi che si sono avventati nelle loro terre quindi è un richiamo anche storico culturale del nostro artista che ha lavorato la statuetta voi cosa dite? parte l'asta ragazzi io l'asta la fisso mi voglio rovinare avevano detto soltanto a 150 euro è possibile venderla avevano detto che 99 era un prezzo accessibile ma opinione di Luzio con il grande Caffè Hack che ci sponsorizza il canale noi ve la offriamo a soli 29 euro roba grossa ragazzi è tutta per voi guardate il loro sottimpressione già il contavisite è un macello è in delirio al pubblico le centraliniste chiamano io urlo per dire dai chiamatevi in fretta adesso arriva 29 euro mondo è a casa vi aspetta e i mobile trip i sogni vi li vende come soli in realtà questa è dura ragazzi 29 euro è un prezzo da follia è tutta per voi Luzio scusa Luzio scusa la testa è confermata grazie per Marco da Roma è chiusa l'asta per la Marco da Roma se l'hai acquistata 29 euro avete sentito anche voi la voce perché noi poi chi se la compra facciamo pure ascoltare logicamente che c'è stato l'acquirente quindi non dovete telefonare più adesso vi apparirà un nuovo numero per la seconda offerta roba grossa ragazzi logicamente non mi ne volga il Tom Hicks chi è questo dietro logicamente io ho un paio di occhiali sono sempre io guardano un po' 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 di meno che la collanina guardate che roba ma guardate sempre il caffè anche che sponsorizza perché il signor non riuscireva a fare questi prezzi pazzi prezzi speciali addirittura guardate guardate che roba che dolcezza questa la vostra compagna nelle vostre stupende viserate di amore ve lo volge il vostro sguardo per virrare il vostro amore rosso di passione rosso di sensualità e rosso di desiderio nei vostri confronti Luzio scusa Luzio Federica da Vicenza vorrebbe vedere più da vicino il cuore si subito Federica guardi che roba un cuore 100% smeraldo naturalmente noi non truffiamo i nostri telespettatori come Vanna Marchi abbiamo tanto sempre di cartellino certificato questo è uno smeraldone con la catenina d'oro bianco 995 carati abbiamo fatto l'implossibile per questi carati l'impossibile il nostro gioielliere l'impossibile per il nostro ografo e ci ha fatto un pezzo unico un gioiello raro per la vostra compagna e anche qui opinione di Luzio ma grazie a Caffèag vi regaliamo un regalone ci avevano ci avevano 159 euro e io gli disse impossibile ci hanno ripetuto allora 99 euro io ho detto impossibile Luzio scusa Luzio scusa ha chiamato il vicino chiede se facciamo meno rumore grazie subito ragazzi c'è il vicino che protesta qua sai quando i prezzi sono folli le spese esagerate logicamente Luzio scusa Francesca da Senigallia ci chiede il prezzo del cuore il prezzo del cuore ve lo dico subito sempre soltanto 29 euro consegna gratuita con certificato di caranzia 100% smerando catenina d'oro bianco 995 Francesca Luzio scusa Francesca ha confermato il cuore da Senigallia già venduta ragazzi siamo rapidissimi qui ragazzi la gente ci sta ascoltando il telefono frema la gente squilla il caffè anche contento e la mia testa di epano di più 29 euro è un altro affetto un altro stato mi dice qua il nostro refendario ha trovato nel magazzino che cosa vogliamo di più ce n'è ancora una volta un'altra tutta per voi sempre la stessa sembra no questa non è la stessa è un'altra la gemella ha l'occhio un pochettino più sbilenco sempre per voi ragazzi 100% ebbano anche lei fatta a mano della manina africana che volere bene al proprio francese colonizzatore nasino all'aquilina tutta per voi guardate che roba ragazzi la postura la signorilità anche della sua gemmella era era un parto gemellare quelli detti biovulvulari ma se era una fotocoppie qui la scienza ha fatto di più ma che dico di più ha fatto ancora di più ma che dico ancora di più è un pignone di luce e caffè anche con voi decaffinato per il mio cuore malato allora ragazzi che dire per la gemella 159 euro leggete il numero sono troppo avete detto bene 99 euro è folle e allora anche lei vuole essere venduta 29 euro cari amici tutta per voi state telefonando c'è tra riviste in tilt mi dicono la redazione cosa mi dicono la redazione non c'è nulla ancora Luzio Luzio Marco da Palermo Marco da Palermo dice che forse gliel'hanno rubata una uguale in casa cosa gli dobbiamo rispondere no no non è possibile ma lei non deve far sentire le stazioni dove prendiamo la merce signorina redazione cancelli tutto ritorna Marco da Palermo dice che per 15 euro fa l'offerta lui 15 euro che fanno redazione gliel'hanno uguale no taglia taglia 29 diche 29 adesso corregge il mio audio dai Marco da Palermo ha messo giù Marco da Palermo ha messo giù Marco da Palermo come si fa qua abbiamo Roberto da Torino Roberto da Torino vorrebbe fermare la stanza io sto male vuole sapere quanto ci vuole perché gli arrivi a casa così come subito subito noi la mandiamo con il corriere express dnt tracò oh yeah 29 euro per lei confermata per Roberto presa 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 Roberto Torino avete cancellato sì quello di Palermo era uno zoticone un nemico del canale e Caffèag ci aiuta sempre ci aiuta Caffèag allora passiamo sempre con il nuovo numerone telefonico guardate quello sotto impresso terza e ultima offerta per opinioni l'illuzio show logicamente guardate che roba lo leggete anche voi qua abbiamo un cartier che è per te guarda che c'è dentro roba grossa ragazzi condizzi mi è pure cascato qual è non vedete bene questo è un accendino ragazzi voi dite invece ce l'ho tante a casa non è un bic qualsiasi è un cartier questo è è timbrato come diceva qualcuno questo quale è pinzonato 9,25 argento puro massiccio roba grossa si accende il primo scat logicamente noi lo venderemo a poco non me la prendo logicamente non si sa chi è casca l'accendino mannaggia la miseria questo vuole l'acquiretto numero sotto impressione l'offerta subito ve la do allora questo accendino logicamente edizione limitata soltanto 999 esemplari al mondo Ie Cartier si è sprecato con la sua firma autografata a mano sull'accendino che volete che vi dica opinione di luce grazie sempre al nostro caffè ci dà una spinta in più una carica in più e io vi dico 159 povere euro cosa sono? troppi avete ragione sempre voi il numero su di pressione sta calando il prezzo sta calando lo show sta finendo l'offerta 99 euro è folle l'idea e avete ragione opinione di luce sta in accappatoio ma si sveste per questo si sveste ancora di più si sciarpizza si lobotomizza tutto 29 euro è per voi telefonate assoluto che già va ruba questa roba grossa ragazzi non è una statua non è uno smeraldo è di più di più di più 29 euro redazione 29 euro redazione telefono squilla sentito sentito guardiamo il telefono no il telefono no Carlo Luzio scusa Luzio scusa Carlo Dancona vorrebbe confermare però vorrebbe vedere che l'accendino funziona certo certo ma lei dice che funziona ma lei non si preoccupi queste circostanze sono anomale qua abbiamo un po' di vento logicamente non è un zippo che c'è la forza del vento qua c'è il vento può essere che un attimino non vede la fiamma ma non è un problema non si preoccupi quando lo vede a casa sua è tutto un fuoco dentro è un fuoco dentro con lei lo compra 29 euro sino qua le linee si intasano non la possiamo stare tanto a stendere il tempo è tirando cosa dice? Giovanni dall'Aquila conferma l'accendino perfetto vedete anche la gente il pubblico l'ha mai capito e ha consolidato la qualità di Opinione di Luzio Show in Televendita Marketing 29 euro è venduto la prossima Asta ragazzi sempre se voi volete qui venire con noi vi diamo lo scoop sono tutte le domeniche alle 9 Televendita ragazzi nuova sottimpressione prenotatevi in linea altri tre oggetti preziosi tutti per voi prezzi speciali mi rottamerò pure io per cercare di fare prezzi speciali per voi e naturalmente Caffè H adesso mi aspetta con dolcezza con amarezza questo sarà il mio dilemma ragazzi veramente che fatica veramente che fatica che fatica io mannaggia a me che io gli ho dato retta a Caffè H mi ha detto ma lei come fa ma lei come fa ma lei come fa e io ho detto ma come si può ma come si può ma come si può ma come si può c'è qualcuno che mi chiama non mi chiama nessuno va bene ragazzi arrivederci l'opinione di Luzio show show accendilo già veduto ragazzi Luzio che lo guardate ammirate ma non guardate domenica prossima otte e mezza per gli altri gioielli magari solo gemelli ragazzi l'opinione di Luzio show 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 show